ragazzi basta concludo qui vi saluto vi do appuntamento a venerdì prossimo con una bellissima puntata vi anticipo che tratterà del rapporto tra l'hip hop e il cinema quindi ne vedremo delle belle sempre sintonizzati alle 17 e 30 sul radio crt anzi voglio concludere con una massima shakespeareana sul motore del mondo il motore del mondo è l'amore e lui dice quando non sarai parte più di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte e sì che bella questa frase ma io ho il vizio di concludere sempre con una bella canzone che fa da riassunto della puntata e qui andiamo con la canzone di romeo e giuliette del 2013 con di abel korzenjofsky e qui grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'interno di Aldiscount a Trevico, alla via Caprareccia 31. Ma puoi trovare sfizi di carne anche a San Nicola Baronia, alla via Vincenzo Leone e a Carife, alla via Roma 133. Per info consulta la pagina Facebook o chiama il numero 339 848 5709. Sfizi di carne, quando la qualità sposa la fantasia.